Vogliamo un pareggio che forse fa più male della sconfitta di Sanremo? Sì, sì, assolutamente. C'è anche poco da dire, sinceramente. È inutile cosa ci dobbiamo dire, che non si può prendere un gol supiazzato al 93esimo con una partita condotta che non è in chiusa. Cioè, abbiamo visto, dai, non dobbiamo né nasconderci dietro un dito, né per quanto possibile fare drammi, perché in questo momento è chiaro che il morale è come se avessimo perso 4-0, sinceramente. Riuscire a ripartire dal buono che c'è stato, che mi sembra che ci sia stato, e poi capire che quando si ha fame di obiettivi, bisogna tenere alta la tensione fino a dopo il fischio dell'arbitro, neanche fino ai tre fischi finali, fino a dopo. Niente, insomma, non saprei cosa aggiungere, sinceramente. Analizzando un po' la partita, forse un primo tempo un po' opaco, diciamo, invece una ripesa decisamente buona. Secondo me, il primo tempo comunque abbiamo prodotto situazioni, abbiamo prodotto anche conclusioni, perché comunque mi sembra che abbiamo calciato, se non sbaglio, sette volte verso la Porta nel primo tempo. magari meno occasioni nitide, per carità, però la molle di gioco non è stata fine a se stessa, magari come a Sanremo in alcune situazioni, invece ce lo siamo detti tutti, potevamo finalizzare meglio. È stata anche una ripresa, sicuramente, come avete detto, più... Ma mi sembrava anche da squadra matura, nel senso che comunque sia nella ripresa, oltre ad aver avuto la partita in mano, ad averla ribaltata, ad aver avuto altre occasioni, ma il dato più significativo è che fino a quel cavolo di calcio d'angolo non c'era stato niente dall'altra parte. Quindi sembrava una gestione di una squadra consapevole, matura, e poi purtroppo il finale ha rovinato tutto. Spiace dirlo, ma insomma, quel calcio d'angolo che dicevi decisivo, è nato da un'uscita magari a V8 del portiere, non è... Non mettiamo la croce a nessuno. No, certo. Assolutamente, dai. Ma anche nel primo tempo... Insomma, è stato un errore di valutazione, che penso che sia chiaro, ma assolutamente... Diciamo così, prendiamo la parte buona, c'è anche un bel coraggio nel fare un gesto del genere a quel minuto su una palla che magari non tutti avrebbero battezzato da poter uscire. È chiaro che, insomma, è una situazione che si è venuta a creare, però poi dopo, ragazzi, dai, prendiamo gol da uno che colpisce a due metri dalla porta. Su un piazzato lo fa. Sì, che forse era da solo, senza nessun giocatore. Su un piazzato al 93esimo. Non esiste, stavo dicendo che piuttosto prendo rosso espulsione e rigore perché lo tiro giù. Cioè, paradossalmente, ecco, piuttosto che così.